E' stato l'incontro più seguito finora del Meeting 2024. Il protagonista è stato padre Adrian Candiard, membro dell'Istituto Domenicano di Studi Orientali. A lui gli organizzatori hanno chiesto di sviluppare ed approfondire il titolo di questa edizione della manifestazione. Se non siamo alla ricerca dell'essenziale, allora cosa cerchiamo? E' chiaro che viviamo in un mondo dove siamo sempre attirati da cose secondarie. C'è una possibilità di perdere tempo ed è anche bello prendere un po' di tempo per chiederci ma allora che cos'è l'essenziale? Poi questo essenziale va cercato, va ricercato. Questo nel titolo del Meeting secondo me è molto importante. Non crederci mai arrivati perché abbiamo la fede, perché siamo cristiani quindi l'essenziale lo conosciamo. No, anche noi lo dobbiamo ricercare tutta la vita. E' una ricerca personale ma anche comunitaria quella dell'essenziale, una ricerca secondo padre Candiard che si può condividere, che impegna anche il singolo credente e l'intera chiesa. Secondo me ogni programma di vita spirituale è sia personale, individuale, sia comune. Il programma del cristiano è anche quello della chiesa e quindi ricercare l'essenziale delle cose è una cosa che va fatta nella vita quotidiana ma che va anche fatta come chiesa in tutto il mondo.